Ecco il primo libro che utilizzeremo nel laboratorio gruppo di studio e lettura, dove attraverso la narrativa, quindi dei libri immagino, spero anche per voi, gradevoli, semplici, discorrevole, piacevole lettura, entreremo nell'immaginare delle vite che avremmo potuto vivere anche noi, ma soprattutto nel cercare di comprendere come potrebbe cambiare la nostra vita se provassimo magari a prendere spunto da ciò che troviamo appunto nei libri, che sono vite reali, non importa, sicuramente vite possibili, vite umane, che avrebbero potuto essere la nostra o potrebbero in parte diventarlo. E allora attraverso la lente della filosofia come stile di vita proveremo a riflettere a partire da questi libri. Allora ho scelto prima di tutto questo libro di Piff, che Dio perdona a tutti. Un libro ironico, ma anche estremamente intelligente, perché Piff mi piace proprio per questo, dove si racconta in particolare, e non racconto ovviamente il libro, di una scelta, una scelta radicale, che viene fatta per vedere che cosa succede se proviamo ad andare davvero fino in fondo a qualcosa che vorremmo. Allora c'è il tema appunto della scelta, della conversione, direbbe la filosofia antica, la capacità, la volontà, ma anche la paura della trasformazione, perché la vita prenda un'altra direzione, un'altra forma e pian piano tanto più un altro sguardo su di sé e quindi un altro senso, un'altra direzione. E poi come secondo libro, perché faremo per ora tre incontri al mese ogni libro un mese, ogni mese un libro, dipende da come lo volete vedere. Il secondo libro sarà il Club delle lettere segrete di questa Donate, non so come si legge, Donate, chi può dirlo. E anche questo è un libro a miei occhi, alle mie orecchie, per il mio gusto gradevole, dove viene proposta una pratica, una pratica che faremo anche insieme e che ci dà l'idea di come sia possibile e a volte molto semplice se usciamo da ciò che riteniamo noto, confortevole, dalle nostre gabbie di orgoglio, a volte forse anche meniferghismo, dicevo di come sia possibile generare circoli virtuosi e non invece circoli viziosi o stagnazione, che è ciò che poi ci crea malessere, inquietudine. Ecco, intanto questi due libri per iniziare a riflettere su questi aspetti, guardando la nostra vita a partire da queste vite che ci vengono raccontate e vedere come queste vite possono interrogare la nostra esistenza e magari introdurre quei cambiamenti che desideriamo e che anche la letteratura può invitarci a mettere in gioco. Ecco, quindi questo sarà quello che faremo, lo dico per chi si è già iscritto a scatola chiusa senza sapere i titoli, lo dico per chi è interessato e anche per chi non si iscriverà, mi sento di suggerire sicuramente questi libri insieme a quello di Roberta Recchia che vi ho nominato nell'ultimo video su YouTube. Il terzo libro del terzo mese mi riservo di pensarci ancora un attimo, quindi se volete iscrivervi il terzo libro rimane sospeso, ma anche la sorpresa, anche l'ignoto è un bel esercizio filosofico. Buon fine settimana!